è il 28esimo del secondo tempo maraschi segna la fiorentina resta in testa la classifica la juventus forse rimediabilmente esce dal giro per la lotta dello scudetto la partita era tesissima la folla oltre 50.000 aveva preso d'assalto gli ingressi fino da stamani alle 11 migliaia i sostenitori bianconeri venuti da ogni parte e aspettavano una grande juventus specialmente nel primo tempo invece hanno visto una grande fiorentina che ha avuto in desisti esposito e merlo fino a quando non si è infortunato i dominatori del centrocampo e quindi del gioco la juventus invece è mancata proprio sul centrocampo dove né del sol né sacco né aller né leoncini con compiti difensivi sono riusciti a confortare con la necessaria continuità i loro avanti si è smarrita perciò anche l'azione di anastasi che ha comunque avuto in brizi un disinvolto controllore la squadra viola è partita assai bene e la juventus è stata subito costretta alla difesa il primo tiro eccolo di desisti alto sulla traversa e poi sarti ha compiuto il suo primo difficile intervento sulla conclusione di maraschi al settimo è rizzo di sinistro a calciare a lato la juventus al tredicesimo cerca in alleggerimento di andare in gol una punizione di aller è deviata da anastasi ma superchi si salva in angolo diciannovesimo la fiorentina che aveva sfiorato il gol in altre occasioni va a rete da maraschi a mancini a marildo castano sbuccia letteralmente la palla maraschi tiro e rete inspiegabilmente l'arbitro monti a nulla eccola ripetuta l'azione dal basso riprende il gioco non passano neanche 30 secondi e la fiorentina segna il suo primo gol con questo splendido tiro di desisti la juventus accusa il colpo sono appena due tentativi i bianconeri isolatissimi in questo scorcio del primo tempo questo tiro di sacco e questa rovesciata di anastasi che trova pronto superchi la fiorentina sul finire dei primi 45 minuti manca il bersaglio con esposito e impegna sarti con un pallonetto di amarildo destinato a maraschi il primo tempo si chiude con l'infortunio di merlo distorsione alla caviglia merlo nel secondo tempo sarà sostituito da cencetti ma la manovra viola risentirà della sua assenza anche se all'inizio della ripresa è ancora la fiorentina a premere in due minuti tre occasioni amarillo trova un grande sarti sul pallonetto ad effetto tirato da pochi passi sarti è bravo sulla fucilata di rizzo angolatissima e supera se stesso su questo gran tiro di esposito la fiorentina ora si disunisce cresce la juve anastasi cerca il gol sorpresa da 30 metri superchi è pronto come del resto su questa replica di zigoni poi la juve segna ma l'arbitro aveva ritenuto zigoni in fuori gioco è il momento bianco nero la juventus sembra sfruttare l'assenza di merlo appare meno impacciata di prima riesce a cogliere il pareggio al quindicesimo con questo spunto personale di aller concluso da zigoni ventisettesimo superchi compie una parata capolavoro salvandosi dal gol dopo la deviazione improvvisa ribrizi e sulla rimessa del portiere il gol della vittoria viola da amarillo amaraschi tiro nulla da fare per sarti è il ventottesimo la juventus accusa nettamente il colpo e al quarantateresimo sul tiro di anastasi si perde l'ultima speranza juventina di conseguire a essere un risultato